Le rassicurazioni dell'assessore regionale Carlo Vermiglio fanno ben sperare il Comitato di Cittadini contro l'inceneritore del Mela. Il rappresentante della Giunta Crocetta ha infatti assicurato ad associazioni e istituzioni che entro la fine dell'anno sarà approvato il piano paesaggistico dell'ambito 9. Un passaggio che rappresenterebbe, secondo il Comitato, un duro colpo per il progetto dell'azienda A2A dal momento che il piano prevede la progressiva eliminazione degli impianti industriali e soprattutto sancisce un alto là alla costruzione di nuovi impianti. La mancata approvazione del piano ha rappresentato infatti un appiglio per l'azienda che lo ha inserito tra le motivazioni del ricorso dinnanzi al Tar del Lazio contro il parere sfavorevole emesso dalla soprintendenza di Messina e dal Ministero dei Beni Culturali in merito alla realizzazione dell'inceneritore. Il piano paesaggistico dell'ambito 9 non riguarda soltanto l'inceneritore ma ha una valenza ben più ampia. Redatto e adottato nel 2009 è nato per la tutela e la valorizzazione del patrimonio paesaggistico di elevato pregio di buona parte dell'ex provincia di Messina e per tracciare le linee guida di uno sviluppo mirato alle vocazioni di un territorio particolarmente ricco di bellezze naturali. L'ambito 9 infatti include una buona parte della fascia tirrenica, della rivera Ionica, Capo Peloro, i Peloritani e parte dei Nebrodi.